Carissimi fratelli e sorelle, gioia e pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore ricolmi la vostra anima, riempia la vostra vita, vi circondi, vi guidi, vi protegga, vi guarisca da ogni male e vi conduca sempre per sentieri di pace. Tutta la nostra vita è orientata verso la salvezza. Il piano di Dio è quello di fare di noi figli Suoi per l'eternità e se nel mondo c'è del male, se nel mondo c'è cattiveria, c'è corruzione, la grazia di Dio abborrisce queste cose, mamma, i Suoi figli che ne sono colpiti. E quando il mio cuore, quando il tuo cuore è sincero, riconosce la fragilità, riconosce il proprio limite, grida al Signore, il Signore non manca mai di inchinarsi sul di noi per sollevarci sulla palma della sua mano. Confidiamo perciò sempre in Lui, come dice il profeta, confida in Lui, o popolo, perché da Lui viene la salvezza. I mezzi umani possono essere utili sempre nelle mani di Dio per aiutarci, ma ciò di cui abbiamo bisogno ai nostri giorni è uno spirito nuovo, uno spirito di fede, di amore, di accoglienza, di accettazione, uno spirito di santità, di verità, di purezza. L'umanità ha bisogno di, anche il cosmo che è attorno a noi ha bisogno di sentirsi rigenerato, rinnovato, non dalle tecniche, ma dallo spirito, perché lo spirito trascina anche il mondo che abbiamo attorno. L'abbiamo visto in altre circostanze come noi abbiamo uno spirito e ciò che è spirituale è superiore alla materia, perciò la comprende e la domina e la trascina. Se il nostro spirito è santo, noi benediciamo il mondo che ci circonda, ma se il nostro spirito è perverso, corrotto e malizioso, trasciniamo in questo il mondo che ci circonda. Come ci spiega San Paolo nell'ottavo capitolo della Lettera Romana, il mondo è stata sottomessa alla caducità, non per suo volere, ma per il volere di colui che l'ha sottomessa, cioè l'uomo. E la gloria di Dio quindi, fratelli, deve penetrare dappertutto e rigenerare anche il mondo che ci circonda. Oggi noi nel Vangelo leggiamo un brano dal quinto capitolo del Vangelo di San Matteo, dove Gesù continua a proclamare la legge nuova dell'amore. Per cui, dice ai suoi ascoltatori, se la vostra giustizia non sarà superiore a quella degli scrivi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Bisogna che l'uomo superi la legge. La legge riguarda il mondo esteriore. Non si possono comandare cose interiori. Io posso comandare una persona di non aggredire il suo prossimo, ma non posso comandargli di amarlo, perché l'amore non viene da una legge. E lo spirito non è sottoposto alla legge. Noi uomini viviamo sottoposto alle norme, alle leggi, ma per quanto riguarda il nostro essere esteriore, le nostre relazioni esteriori, ma il cuore, il cuore non può essere dominato da nessuno. Lo spirito interiore, invece, è sottoposto soltanto a Dio quando noi, con docilità, ci sottomettiamo a Lui, ma volutamente e con amore. Ecco perché Gesù, allora, non parla dei leggi esteriori, parla di ciò che deve esserci dentro il cuore. Perciò Gesù continua dicendo che è stato detto una volta nel comandamento non uccidere. Ma io vi dico, dice Gesù, che anche soltanto adirandoti contro il tuo fratello, sarai sottoposto a giudizio. Che domanda a Dio? Domanda a Dio. Se tu odi il tuo fratello e lo stai uccidendo dentro di te, nel cuore, quello è morto. Quante volte si sente dire, per me quella persona è morta, cioè la disprezzo, la ignora del tutto. Peggio dell'odio è l'indifferenza. Che l'odio, bene o male, è cattivo, però tu pensa all'altro. Nell'indifferenza neanche lo vuoi pensare, perché non esiste proprio. Gesù perciò mette davanti a noi la realtà del mondo interiore, di cui però questo mondo, fratelli, non ne parla, anzi, lo perseguita, lo distrugge, lo rinnega. Perciò, e se la vostra giustizia non sarà superiore a quella degli scrivi dei farisei, non andrete nel regno dei cieli. Se uno dice al fratello stupido, sarà sottoposto al sinedrio. Qui Gesù mette in parallelo quella che è la gravità del peccato interiore a quella che abitualmente viene sottoposto ai tribunali. In questo caso, se uno dice al fratello stupido, sarà sottoposto al sinedrio, che è il massimo organo della giustizia della Palestina al tempo di Gesù. E chi gli dice pazzo, sarà sottoposto al fuoco della genna, cioè va all'inferno. Se tu lo odi, fratello, sei in peccato. Tuo cuore è morto, la tua anima non ha spirito d'amore. Perciò, aggiunge Gesù, sei dunque presente la tua offerta sull'altare. E lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te. Voi immaginate, al tempo di Gesù nel Tempio si facevano le cosiddette offerte di comunione, il sacrificio di comunione. Quindi uno portava all'altare dal sacerdote un agnello che veniva immolato, oppure c'era chi offriva il pane, chi offriva una bevanda. E Gesù dice, se stai per presentare la tua offerta all'altare, e lì ti ricordi, non che tu abbia odio verso un fratello, ma che un fratello abbia qualcosa contro di te, vai prima a ricongiliarti. Perché il Signore non vuole l'offerta, vuole il cuore. Ma se il cuore non è nella pace, cosa offriamo al Signore? Se non ha bisogno né di agnelli, né di pecora, né ha bisogno di buoi, ha bisogno dello spirito dell'uomo. I veri adoratori, dice Gesù nel Vangelo, adoreranno il Padre in spirito, cioè con la vita, con la profondità del cuore. Quindi non basta che tu non faccia male al tuo fratello, Dio ti chiede di amarlo. Vedete come la legge di Gesù, fratelli, non è una legge puramente esteriore, è una legge di vita. Noi adoriamo Dio con la vita, quando Gesù dice adorare Dio ogni spirito, cioè con la vita. E in verità, cioè come lui si è rivelato. Allora devo adorare Dio nella sua bontà. Abbiamo visto tante volte come Dio è misericorda, è amore che non finisce mai, è salvezza, è potenza per tutti noi. È Padre e si unisce a noi con un amore indefettibile, che non verrà mai spezzato da nessun legame umano, da nessuna legge umana, da nessun peccato. Dio è amore. Quindi prosegui Gesù dicendo Mettiti d'accordo con il tuo avversario mentre sei per via con lui, cioè cerchi di non litigare. Cerca sempre la pace. Naturalmente, secondo quello che è nelle nostre possibilità, perché a volte ci sono delle responsabilità che vanno tutelate, adesso non scendiamo molto nei particolari. In verità ti dico, se tu vai in tribunale e puoi rischiare grosso. Vedete qui Gesù mette anche degli interessi davanti, dei pericoli, per instillare prudenza, saggezza al cuore dell'uomo. E noi chiediamo al Signore, fratelli, questa saggezza dell'anima, questa saggezza dello Spirito. E lo Spirito si coltiva con la parola di Dio, lo Spirito si coltiva con la preghiera, si coltiva con l'amore, col perdono, con la carità, con la riconciliazione. Dei beni spirituali vanno ad arricchire la nostra anima e formano il nostro uomo interiore. Dio è glorificato, quindi, dall'uomo interiore. Bisogna adorare Dio in Spirito. Padre, tu sei Spirito d'amore. In Gesù tuo Figlio hai manifestato la tua santità, la tua gloria. Padre misericordioso, dona a tutta l'umanità questa novità di Spirito che ci viene al cuore trafitto di Gesù Cristo, che ti ha adorato e ti ha servito fino alla morte e alla morte di croce e non si è tirato indietro, non ha pensato alla sua salvezza, ma alla tua gloria e alla nostra salvezza, il nostro bene. Scendo oggi su di noi questo Spirito di comunione, di santità, di verità, Spirito di luce, Spirito di amore, Spirito di eternità che ci proietta verso la gloria eterna, non verso la morte. E tu Vergine Santissima che guidi sempre la tua Chiesa, soprattutto in questi tempi in cui il male sembra scagliarsi contro di essa, benedici tutti i tuoi figli, sostienile nelle prove e rendici tutti vittoriosi davanti a Dio per conseguire quella gloria che Gesù ci ha promesso. A Lui salgo la nostra lode, la nostra riconoscenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. E questa grazia del Signore, fratelli, vi accompagni sempre e vi faccia sovrabbondare in doni di amore e di pace e vi faccia prosperare in ogni bene e faccia riuscire anche ogni opera che il Signore suggerisce a voi da compiere con le vostre mani. Amen. Grazie a tutti.